Buonasera a tutti, la bella marcia brillante che abbiamo appena ascoltato in apertura e con la quale la banda di L'Armonica vi ha dato il benvenuto al concerto è Gran Varietà di Antonio Patricullo. Prima di proseguire con il prossimo brano ho il piacere di passare il microfono a Valeria Olivieri, sindaco di Ocimiano. Scusa, interrompo il piacevole ascolto solo per qualche minuto. Per noi di Ocimiano questa è una serata particolare perché abbiamo visto il ritorno di tutti i musicisti che ci stanno a cuore, ma ce n'è uno in particolare laggiù che siamo ben felici di vedere di nuovo fra di noi, ritornato sempre con la simpatia e la grinta che di solito dimostra. Allora, secondo, secondo, ce l'abbiamo con te, eh? Allora, non vogliamo farti fare della strada inutile, chiamo l'assessore Zoccola che ti consegnerà a nome dell'amministrazione che per ora rappresenta a tutti gli ocimianesi un riconoscimento alla tua simpatia. Grazie mille! Grazie a te! Grazie Valeria, buonasera a tutti. Questa è una semplice pergamena che vuole essere un bentornato tra noi per secondo, visto che negli ultimi due mesi ci ha fatto un po' preoccupare. Vuole essere anche un augurio per una pronta guarigione e che lui possa fare anche ancora tanta buona musica insieme alla sua adorata banda. Grazie, vado a conferire. Grazie. Grazie. Un tornato secondo, aggiungo un avvertimento alle signore ocimianesi, attenzione, secondo è tornato. Grazie.